La qualità al vostro servizio. La nuova fattoria di Alessandro e Adriana Bonacquisti di Ascurla Otto Rosso a San Martino d'Albano. Prodotti naturali di alta qualità. I sapori di una volta, quelli che da tempo hai dimenticato, li trovi dalla nuova fattoria. Torniamo all'antico, sarà un progresso. Grazie a tutti.